Segnali complementari Delineatori normali di margine Vengono posti ai margini delle strade extraurbane, al limite esterno della banchina, e visualizzano a distanza l'andamento del tracciato stradale. In questo caso delineano il margine di strade a senso unico. In quest'altro caso delineano il margine di strade a doppio senso. In presenza di muri, parapetti o altri impedimenti, possono essere sostituiti da elementi rifrangenti fissati ai manufatti. Delineatori per gallerie Sono usati per visualizzare i margini delle gallerie illuminate o meno o non rettilinee. Possono essere utilmente impiegati per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata. Nelle gallerie a senso unico sono di colore giallo, mentre nelle gallerie a doppio senso sono di colore rosso a destra e bianco a sinistra. Delineatore per strade di montagna Viene posto ai margini della carreggiata su strade di montagna Per rendere individuabile il tracciato stradale in caso di innevamento. Delineatore di curva stretta Segnala sulle strade extraurbane la presenza di curve particolarmente strette con mancanza di visibilità e indica la direzione da seguire. Il segnale invita i conducenti a porre particolare attenzione nell'affrontare la curva e può essere preceduto dal segnale curva a sinistra. Bianco e rosso indica una deviazione temporanea per lavori. Delineatore modulare di curva È installato in serie di più elementi lungo il lato esterno delle curve per migliorare la visibilità a distanza dell'andamento della strada. Bianco e rosso segnala deviazioni temporanee. Delineatore di incrocio AT Viene posto trasversalmente alla strada che si sta percorrendo e ha le punte di freccia orientate verso le direzioni possibili. Se bianco e rosso si usa per segnalare deviazioni temporanee dovute a lavori stradali.